ok quanto è bello vincere è sempre più bello ogni anno è veramente più bello perché più duro più difficile tutto però bello bello però questa scuola è meritata veramente tutto l'anno che abbiamo dimostrato un gioco altissimo ultime due anni abbiamo perso la champions adesso alla fine finalmente un trofeo credo che il trofeo più importante questo gruppo chiude un po un ciclo era il modo migliore per chiudere per aprirgli un altro questo gruppo ormai due anni che sta insieme si vedeva che siamo cresciuti tanto abbiamo perso qualche in finale in più secondo me però quando è arrivato il momento più bello abbiamo dimostrato davanti pubblico nostro un grandissimo livello di gioco una grandissima pazienza la grinta è una bella grande la vittoria alla fine